ZOOTROPOLIS Gli animali sono diventati selvaggi? Siamo al sicuro? Questa è la priorità numero uno. Ops, ausiliare del traffico. Signore, non sono qui per fare numero. Se fallisci dai le dimissioni. Ci sto. Dovrei farti qualche domanda su un caso. Servirebbe un vero poliziotto per risolverlo? Ti dichiaro in arresto. Bevoltovaggio alla finfibilità. Sei un testimone chiave. No, è lui. Ehi! Devo identificare una targa. Conosco un tizio. Qualsiasi cosa la fa all'istante. Sono tutti bradipi. Mi restano solo 36 ore. Solo insieme possiamo risolvere il caso. Qui non si tratta di quanto tu lo desideri, ma di quanto tu sia in grado di farlo. Io sono un vero poliziotto. Non mostrare mai il tuo lato debole. Voi coniglietti siete così emotivi. No, no, no! Non mollo la presa! Ora mollo la presa! Cosa? Ci saremmo pure evoluti, ma in fondo restiamo sempre animale. Partirà l'ululatto di massa! No! È tutto nudo. Oh, certo. È un club naturalista. e andati giù. Oh. La vita è complicata. Tutti commettiamo errori. Non importa a quale specie apparteniate, il cambiamento parte da voi. Andiamo. Di chi è l'auto? Del temutissimo criminale Mr. Peek! Quello è Mr. Peek. Fai silenzio, fai silenzio! Freddateli! Papino! Chi avevi promesso? Niente tuffi nel ghiaccio al mio matrimonio! Ma devo, piccola! Papino è coscietto! Ma devo, piccola! Papino è coscietto! Ma devo, piccola! Questa è una miglior! È molto buona! Per cui è una miglior! E anche una miglia! Chi va un esterano! Grazie a tutti.